Ciao a tutti e bentornati con un'altra puntata di Catherine Allora, eravamo arrivati al bar, avevamo provato il giochetto fonfo, strafalfaro Vediamo un attimo cosa possiamo fare Usare il jukebox Ok Bene Giusto per In toalette, uomo con gli occhiali Entra nella toalette, vediamo cosa c'è in bagno Io in realtà, ragazzi, volevo uscire dal bar, ma non so, non riesco Entra nel cubicolo Vediamo, laviamo il viso Adesso, secondo me, vede gli occhi da pecora What the fuck In che senso? Sì, è questa la sala delle tratture Controlla il telefono Non ce ne sono Eh Quindi Quindi niente, vai fuori La pupù non puoi farla, per cui Usciamo Sapete cosa? Ho quasi il dubbio che devo parlare con il barista in questa puntata Perché mi sembrava di averlo fatto Ok Achei che mi importa Eh, scalare Scalare, scalare Credo che Catherine si è iniziato a raccogliere, perché non puoi lasciare solo Tu sei stupida e in tutto il modo E' un'attività maternale Un'attività, un'attività come un'attività come E' un'attività come un'attività come un'attività come un'attività come un'attività E' questo la scuola? Non sei un'attività un'attività, ok? Rin non è un figlio, ma ancora Non ho mai visto qualcuno così innocente E' un lato E' un lato E' un'attività E' un lato E' un'attività Ma ancora E' un'attività E' un'attività Qu'è E' un'attività E' un'attività Non sono E' un'attività E' anche Sò Te che ti ha chiesto um, quindi ho scusato che tu ti è casato? non lo so, abbiamo chiesto un po' un paio vedo hey Rin, hai una idea chi è chiesto? no, non davvero, è tutto così subito ma tutto è calma ora, quindi è bene credo, bene, siamo tutti qui per te Ok Cosa c'è qua? Niente Le gemelle Ci ritirai? What the fuck? Ma cosa fai Vincent? What's that? It said a man climbed that mountain 300 years ago and was given a fortune. It said a man climbed that mountain 700 years ago and was given the world. A man who climbs the mountain now will be given his future to do it as he pleases. Is this a fairy tale or something? These are true stories. The story of Rapunzel is based on this true story. Oh, raperone to the encore. La redenzione per aver tradito Catherine. Cos'è? 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 Rispondi. Poverina. Ti ho tradito. Catherine? It's okay. I think I should tell you face to face. Oh, porca vacca. Good night. What happened? Cos'è successo, ragazzi? I wonder if Mr. Morgan would like that piano. I wonder if that piano would bless Mr. Morgan. You got a mail. Ah, il tempo passa quando ti siedi e parli alla gente del bar. Chi cazzo sei? Chi cazzo sei? Ah, ma è Catherine. Ma perché diceva? Ah, 2 aprile. Ma porca vacca. Ho capito. Pensava fosse il mittente. All right. No, ma se possiamo parlare con il proprietario. Siediti 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 ovviamente sono sicuro, inoltre, ho sentito che stai vestendo queste scuole per salvare dalla prossima donna l'amore è la tutta la storia di vita di un uomo, è solo un episodio di un uomo, per portare una linea da un certo qualcuno comunque, è una strana rumore, e noi due di noi dovremmo essere attivati una strana rumore che ho sentito da Erega è vera lei diceva che sarei chiesto a qualcuno apparence, ho un guardare a le mie ozze potrei essere chiesto per la scuola di questo anche? comunque, ancora, è vero, è vero? l'amore amore è per la scuola di un uomo per la scuola di un uomo per le parole di un certo qualcuno Ma c'hai un porcone allora? Affare fatto Rispondiamo a sto messaggio Grazie della risposta salvo il mio diritto ok tornerò al bar stasera per cui aspettami anche se si fa tardi Ecco la ricompensa che ti avevo promesso non farla vedere a nessuno Immagine Ho capito io In bagno bisogna andare Come here just to see Erika Which is great And now we have I guess you can have to I think I'll go home for today My This is breaking news and our ongoing coverage of the rash of mysterious The following people were proclaimed dead today Those mysterious weakening deaths I can't believe that Paul's dead Ai 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 Eh il pecorone d'oro che avevo trovato prima eh That pianist Well I welcome the change of pace This customer is a journalist He seems to be obsessing over a certain legend lately A legend? I was originally looking into these suspicious deaths that have been happening lately I'm Justin by the way Hmm Sì nei sogni anche lui Oltre al pecorone miliardario con i petrolio It's indicating that similar cases occurred in 100 year cycles Many men died last time as well It's the truth Wow Every 100 years huh? I've found a strange variation on this legend going around too Hmm? There's a man who survives it Survives the dreams Very very rarely There's a man who is cursed but doesn't die Isn't that interesting? It's said that the survivor has granted one wish If he wished for eternal youth He might still be around It's like a magic lamp Well if this is what you're coming up with You have a wish in mind for yourself? Hmm To live forever? Is that too typical? Me? I'd wish for something different Like what? I may wish to change the past And make someone kill me Oh uh I wonder what I'd wish for I'm gonna head home Excuse me Andiamo a guardare la foto di Catherine Ma no Non ci interessa la foto di Catherine ragazzi No dobbiamo fare una run da Fadele A me interessa Catherine quella vera Non quella Quella maialona lì Vediamo se parlando con gli altri Sono cambiati i dialoghi I'm gonna take a look Hey uh Is it true or Huh? You didn't know? He got married while he was pretty young He lost a lot of money in some scam His wife left him He pretends not to mind But I think it still gets to him sometimes Even when his wife calls him He Huh? What do you mean? Um Well Never mind We'll talk about it later Oh Is that the time? I should be heading home soon Uh It's Anyway I can't hurt her anymore Yo Vincent We're leaving now You're not going home yet? She 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 I think I'll stay and drink a little more No 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 perché arriva Catherine C'è no Alzati No Eccola qua Porca vacca Avrei dovuto andare via prima E mi alzo Ciao Io non voglio Sì Ragazzi Catherine con la K Dobbiamo stare fedeli a lei Fidatevi di me Però Ditemi cosa Vorreste fare voi Che ci pensiamo un attimo Primo E secondo Se ci pensate Questo gioco qua È un po' come Man of Medan Bar Until Dawn Perché alla fine Tutte le scelte presiono Ah Irene questa Non Catherine Cosa ne pensi Della mia prestazione Dai che facciamo un puzzle Dai Almeno in questa puntata Dormi Vincent Dormi i sogni tranquilli Dove rischi le morte Letteralmente Però La famosa morte Per snu snu Di Futurama Terzo giorno Nightmare La camera La camera delle torture Dove i traditori Vengono messi a riposare Ha detto Però per qualche motivo Non hanno doppiato Che dialoghi lì Che peccato Cavolo Cosa è Cazzo vuol dire Che rischiamo di morire Sopra quei blocchi lì Oh porca vacca Oh porca vacca Ragazzi Ragazzi Cosa sto facendo Devo fare così Semplicemente Ma c'era una trappola Lì sotto Non me ne sono accorto No dai Wow Proviamo Mamma mia Porca vacca Volevo andare Lì sopra Ecco a posto Wow No cosa fai Così Porca vacca Non me ne ero accorto Eh che cazzo Perfetto Usando una bibbia Puoi eliminare gli avversari Che sono di intraccio Davvero Posso ucciderlo Lo vorrei provare Cavolo Però mi dispiacerebbe In realtà Poverino Non ho pensato Che gli avrebbe fatto Così male Onestamente Cosa ho fatto su Ragazzi qua Non lo so Andiamo avanti Che fa lo stesso Va Perfetto Più o meno Beh ce l'abbiamo fatta Più o meno Non benissimo Non benissimo Però ce l'abbiamo fatta Oioioi Ilâge 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 Di Ilâge Veders bene c'è Rin qua c'è che tu faccio qui? c'è il vostro cuore? non mi guarda così aspettate non sono solo una bambina una bambina? una bambina? cosa vuoi dire? come a pensare che tu non sei una bambina cosa succede? non c'è tempo per questo questo place è male se tu non fuori da qui tu vas a morire morire? vedo quindi questo è il motivo che tutti sono così assicurati nel caso sto dicendo che non c'è tempo per il piano giocare la musica calma il mio cuore anche in un posto come questo vorrei share questo sentimento con tutti altri ma vabbè tutto molto strano ragazzi eh? completamente diverso dalla run originale di Katrin per PS3 e Barra 360 insomma quello vecchio ecco bene ragazzi noi qui chiudiamo la puntata grazie e alla prossima grazie